Primo video del mese di febbraio, primo video in cui celebriamo la vittoria contro il Frosinone Un 3 a 2 prezioso, un 3 a 2 importante Vedete nella foto Giorgio Furlani esultare, chiaramente è un'immagine vecchia, un'immagine pescata dal web Giorgio Furlani che esulta, esultava per i colori rossoneri e noi in questo momento siamo così, siamo festosi Festeggiamo questa vittoria preziosa, vittoria sudatissima, vittoria molto difficile, molto complessa In una serata in cui ha visto il Milan in alcune fasi del gioco poco brillante E nel finale siamo stati fortunosi con Luca Jovic a trovare il 3 a 2 Che ci porta vicino alla Juventus e l'Inter, l'Inter con una partita in meno Sperando che domani entrambe le squadre possano pareggiare per tenere il Milan vicino E non si sa mai visto che il campionato è ancora molto molto lungo Parleremo poco della partita, della parte di oggi Ma questo inizio con Giorgio Furlani mi dà un grande assist Perché Luca Jovic, che è stato un colpo, possiamo dire, arrivato con tanto malumore Con poco anche clamore mediatico al Milan Si sta rivelando un grande acquisto Un acquisto sicuramente molto, un acquisto notevole per i numeri Per l'impatto che il giocatore serbo ha durante le partite in rosso-nero E perché allora Giorgio Furlani? Perché il Milan è riuscito a prendere Luca Jovic a 0 dalla Fiorentina Ma ha fatto sottoscrivere al giocatore serbo solamente un anno di contratto Quindi, avete capito bene, Luca Jovic è del Milan Ma ha il contratto fino al 30 giugno 2024 Quindi fra pochi mesi gli scadrà il contratto E proprio da febbraio tutti i giocatori che sono in scadenza Possono accordarsi con altre realtà, con altre squadre E questo mi preoccupa, mi preoccupa molto Perché lo sappiamo che dall'altra sponda del Naviglio Si stanno cercando delle soluzioni, delle alternative a Turin e a Lautaro Sappiamo come Marotta sia molto abile nei colpi a parametro 0 O in generale possiamo dire, sappiamo però Quanto faccia gola un giocatore che davanti vede la porta Che è costo 0 Soprattutto in un mercato dove gli attaccanti costano sempre, sempre Tantissimo Senza dimenticarsi, e passatemi il termine un po' canino Il pedigree di Luca Jovic L'esperienza di Luca Jovic Le squadre in cui ha militato Luca Jovic che dicono che è un giocatore comunque giovane Ma di valore Giocatore che ha sicuramente colpi importanti E quindi mi aspetto che Giorgio Furlani dopo questo ennesimo gol Riesca a regalare il rinnovo a Luca Jovic Che riesca a bloccare, a trattenere questo giocatore Che è un elemento importante 8-7 gol, non mi ricordo Ma numeri Gol pesanti Gol che hanno portato punti preziosi per la nostra squadra Una seconda punta Una prima punta Un giocatore che gioca da solo Che gioca con un partner d'attacco Che può giocare a 3 Che può giocare a 2 Un giocatore sicuramente dinamico Flessibile Che penso piaccia molto anche a un allenatore come Antonio Conte Ormai sembrerebbe promesso sposo del Milan Prossimo allenatore rosso-nero Quindi un giocatore che svaria Che gioca dietro una punta Sicuramente in un 3-5-2 contiano In un 3-4-3 Sicuramente un elemento come Jovic Farebbe sicuramente la differenza A proposito di Antonio Conte Vi dico che alle 21 Scusate Esce uscirà Un video in cui parleremo di Antonio Conte Del Milan E di alcuni nominativi usciti In questi giorni Collegati a Antonio Conte E vi dico che non mi convincono E vi spiegherò il motivo Quindi vittoria importante oggi Un buon leao in crescita Uno girù sempre prezioso Sempre importante Che fa le sportellate Che fa gol Che fa gli assist Una difesa ancora da registrare Perché abbiamo preso altri due gol Un centrocampo che in fase offensiva Verticalizza Un buca Ma in fase difensiva Fa fatica Quanto manca un giocatore Come Frank Che sì Ma ci otteniamo stretti I tre punti Con i tre gol Di questa sera Vi attendiamo alle 21 E come sempre Cliccate like Se vedete Voi canale youtube Di rubrica rosso-nera Grazie a tutti